Sono Modena, Prato e Verona, i comuni italiani al primo posto per la gestione degli animali che vivono nelle nostre città e quelle di Napoli 1 Centro, Modena e Toscana Centro, le aziende sanitarie con i servizi veterinari più efficienti. I dati emergono dal rapporto annuale di Legambiente che questa mattina ha presentato a Palazzo San Giacomo l'ottava edizione del dossier Animali in città. È un'indagine che analizza i dati forniti dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie e che prevede un riconoscimento per le esperienze migliori rispetto alla tutela e salvaguardia della salute degli animali. Tra i virtuosi è anche il comune di Napoli che ha ricevuto, consegnato dal responsabile fauna e benessere animale di Legambiente Antonino Morabito, il premio Amici degli Animali 2019. Siamo molto contenti di questa premiazione di Legambiente, che sappiamo con quanto rigore e scrupolo Legambiente analizza i dati, lo abbiamo visto anche adesso, ma non lo viviamo come un traguardo perché non siamo ancora soddisfatti del livello di tutela degli animali che c'è in città, si deve fare molto di più. Però il comune fa la sua parte, lo fa insieme all'ASL, lo fa insieme alle associazioni, all'università veterinaria, a tanta gente che vuole costruire nella nostra città un nuovo umanissimo che significa anche un rapporto diverso con la natura e con tutti gli esseri viventi di cui al centro ci stanno soprattutto i cani e i gatti di cui si è parlato oggi. È un premio che la città di Napoli riceve con grande orgoglio per la diminuzione degli animali, dei cani randaggi sul territorio. E nelle nostre città, che sono sempre più complesse, la gestione accurata degli animali consente di creare aree di comunicazione, di superamento della solitudine. E questo è molto importante che venga riconosciuto come valore aggiunto della gestione della città, che è sempre più un ecosistema in cui vivono tutti gli esseri viventi e che possano vivere in armonia, in modo da avere tutti un miglioramento del benessere.